Oggi preparo pop corn di ceci. Per questa ricetta ho utilizzato due scatole di ceci già lessati. Scolateli e asciugateli. Li ho messi dentro una pirofila e ho messo un filo d'olio. Poi mischiateli con un cucchiaio. Aggiungete ancora della paprika dolce o piccante, come piace a voi. Quindi mescolate bene con un cucchiaio e versate ancora del pangrattato, circa 100 grammi. Se ti piace questa ricetta commenta anche con una sola faccina, grazie. Adesso mettete anche un cucchiaio circa di farina e un ottimo snack vegano. Salate ancora. Aggiungete anche un po' di rosmarino tagliati a pezzetti. Mischiate. Mettete tutto dentro la frigitrice ad aria. Distribuiteli bene con un cucchiaio in tutta la superficie. Dovranno cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Ecco il risultato. Sono buonissimi e croccanti. Mia figlia, dopo averli preparati, li assaggia. Grazie e alla prossima ricetta.